Ravi, un giovane eremita proveniente da una remota regione montuosa, era noto per la sua profonda curiosità e per la sua sete di conoscenza interiore. Crescendo tra le cime scoscese e le valli selvagge, Ravi sviluppò una profonda comprensione della natura e di tutti i suoi misteri, ma fu sempre affascinato dal potere del linguaggio e dell'espressione umana. Un giorno, durante una delle sue meditazioni solitarie in cima a una vetta isolata, Ravi avvertì un'intensa necessità di esplorare il significato più profondo del silenzio. Sentì che solo abbracciando la quiete interiore avrebbe potuto svelare i segreti più nascosti dell'animo umano. Con questo in mente, decise di intraprendere un viaggio silenzioso e profondo attraverso le terre remote e desolate delle montagne. Durante il suo pellegrinaggio silenzioso, Ravi si imbatté in una comunità di monaci, rinomati per la loro abilità nel mantenere il silenzio interiore. Si unì a loro, trascorrendo giorni e notti in contemplazione silenziosa e in profonde meditazioni. Col passare del tempo, cominciò a sperimentare un senso di pace che non aveva mai conosciuto prima. Mentre il suo viaggio interiore continuava, Ravi incontrò un anziano saggio che volle condividere con lui i veri segreti nascosti del silenzio. L'anziano lo illuminò dicendogli che il vero potere del silenzio risiedeva nell'ascolto attivo e nell'osservazione senza giudizio. Ravi comprese che il silenzio non era un vuoto da riempire, ma piuttosto un ricettacolo profondo che accoglieva la comprensione e l'empatia. Con il tempo, la saggezza del silenzio permeò profondamente l'anima di Ravi, trasformando la sua eloquenza in una forma di espressione più sottile e significativa. Ogni parola che pronunciava era ora permeata di compassione e comprensione, attingendo alla profonda saggezza che aveva guadagnato durante il suo viaggio. Ravi tornò nella sua terra natale, portando con sé un nuovo dono per la sua comunità, il potere del silenzio attivo. Le sue parole, scelte con cura e pronunciate con compassione, ispirarono cambiamenti positivi nelle vite di coloro che lo ascoltavano. La sua capacità di comprendere senza giudicare e di ascoltare senza riserve, insegnando alle persone a creare un legame profondo, creò un senso di unità e di armonia in tutta la comunità. Con il passare degli anni, Ravi divenne noto come il custode del silenzio, diffondendo la sua saggezza e la sua compassione in ogni angolo del suo mondo, anche attraverso i suoi libri. Le sue parole erano come melodie sussurrate al vento, portatrici di pace e comprensione in un mondo tumultuoso. Ravi divenne un faro di luce per coloro che cercavano la verità interiore e la serenità nell'abisso tumultuoso della vita. La sua storia divenne una leggenda tramandata di generazione in generazione, che ricordò a tutti l'importanza di ascoltare con il cuore e di parlare con saggezza. Il suo insegnamento rimase un ricordo prezioso per coloro che cercavano la pace e la comprensione in un mondo troppo spesso, in preda al caos e alla confusione. Con il suo esempio, Ravi dimostrò il potere dell'umiltà e della compassione nella ricerca della verità interiore e nella costruzione di legami autentici con gli altri. Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto, ti preghiamo di non dimenticare di iscriverti al canale Dose Mentale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sui nostri ultimi contenuti. La tua partecipazione rafforza la nostra comunità e ci ispira a continuare a condividere preziose prospettive. Insieme, illumineremo i nostri percorsi. Ci vediamo nel prossimo video.